L'ex manifattura tabacchi di Viale Crispi è di sicuro uno dei simboli della città ed è per questo probabilmente che sono in tanti a volerla vedere rifiorire a nuova vita dopo il glorioso passato industriale. Ad oggi l'ipotesi più concreta per restituirle un'identità sembra essere quella di acquisire l'intero complesso al patrimonio pubblico come ha auspicato da anni dal MALC Manifattura la città, il comitato costituito da un cartello di associazioni e che fin dall'amministrazione Gravagnolo si batte affinché il comune si riappropri dei locali. La collaborazione collaborativa con il comune continua, abbiamo a che fare con un'amministrazione che sembra più aperta all'esigenza della città che noi cerchiamo di rappresentare e credo praticamente che alla ripresa del contenzioso, se questo verrà gestito in maniera ordinaria dovremmo rientrare quanto prima nella disponibilità del bene. Spero che si facciano dei gazebo, che si facciano anche dei manifesti che l'amministrazione comunale informi bene tutta la cittadinanza cavese su questo argomento e che si prenda coscienza in modo tale che sia un movimento di opinione forte, grosso, che spinga molto sia l'amministrazione comunale e poi spinge pure pure gli altri che vogliono eventualmente metterci le mani sopra.